Sì, sono pienamente d'accordo con queste intuizioni, cerco di articolare un sentiero ulteriore per favorire una riflessione che si può continuare anche a casa. Fede e scienza, fede e ragione. E di fronte all'esperienza del male siamo interpellati tutti. In questo senso non è, diciamo così, un'esperienza che uno possa dire ma la fate soltanto voi credenti. Lo scontro con le diverse forme del male ci tocca, tocca a noi credenti in Cristo che non siamo preservati da questo come tocca a chi non crede o chi crede in altre religioni. Quindi stiamo ragionando in queste serate sulla vita, nelle sue asperità, ma la vita di tutti. Tutti hanno provato ad avere delle malattie, malattie gravi, magari i propri cari, specie in questo periodo. Tutti hanno provato la malvagità di persone, talvolta malvagità che non finiscono più e magari nate da banalità, eppure rovinano la vita. Tutti abbiamo acceso la televisione, abbiamo visto attentati, il terrorismo da Parigi all'Afghanistan, dalle Torri Gemelle. Tutti abbiamo assistito in questo periodo a questo virus che è un nemico letale e nascosto, da dove arriva. Ecco, quindi tutti siamo interpellati, da questo interrogativo. Ma da che mondo è mondo? Fin da quell'anello, diciamo così, dell'evoluzione tra l'ultimo dei primati e il primo essere umano, fin da quel momento lì si è scatenata la domanda sul perché. Perché la vita è così? A queste asperità. Ecco, quindi un dato universale. Su questo dato avete visto, io cerco di trovare luce nella rivelazione, ma appunto nella rivelazione testimoniata negli scritti della Bibbia, così come ci vengono trasmessi dalla tradizione vivente della Chiesa. Noi siamo cristiani, quindi ho tentato, stiamo tentando insieme un itinerario che cerca luce in queste tenebre che sono il nostro mondo. Ecco, cerca luce dalla parola di Dio e in modo particolare all'interno della parola di Dio da Gesù Cristo, luce del mondo. Ecco, anche stasera avete visto il tentativo di partire da lui e andare a prendere anche quelle scintille magari un po' ambigue di luce che ci sono nell'Antico Testamento. Ma appunto entriamo in questa parola di Dio, in questa nostra Bibbia con tutto noi stessi. Fides e trazio, fede e ragione, con tutto noi stessi. Noi arriviamo a dire con tutto noi stessi, contro quelli che ci dicono la fede, la fede inizia quando la ragione smette di lavorare. No, 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 no. Questa visione della contrapposizione tra fede e ragione non tiene. Si arriva alla verità perché siamo esseri umani con tutto noi stessi. Fede e ragione. O meglio ancora, con una ragione all'interno della fede. Perché nonostante quello che ci hanno detto i razionalisti, gli illuministi, i positivisti, c'è tutta la la fila, no, nella storia, che ci dicono, appunto, la ragione ci arrivano tutti. La ragione è la luminosità dei motivi. Quando non ci sono questi motivi che tutti possono condividere, che tutti vedono l'evidenza, lì c'è il confine della fede. La fede è l'ambito delle cose oscure, dei misteri. Non è così. La fede, paradossalmente, nonostante quello che ci dicono, è l'orizzonte più ampio all'interno della quale c'è la ragione. Se ci pensate, le cose che ci mantengono in vita, cioè che ci fanno vivere, non sono spiegabili razionalmente con la pura ragione. Provatemi l'amore con la ragione. Provatemi l'amore tra un marito e una moglie con la pura ragione. Non ce la farete. Non ce la farete. Non si arriva con la pura ragione. Alle cose più grandi della vita si arriva con l'affidamento. Mi fido che, e fidandomi e vivendo nella fiducia, si apprezzano i segni dell'amore e dai segni dell'amore si giunge alla consapevolezza che quella persona mi ama. Eh, ma mi ha regalato questo solitario. Questa è la prova razionale che mi vuol bene. Sì, te l'ha regalato per tradirti con quell'altra donna e almeno tu stai tranquilla. Un conto è il segno, un conto è l'amore. All'amore non si giunge razionalmente. E questo vale per le cose umane, ma proprio perché noi siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, vale anche per il rapporto con Dio. Dunque, il tentativo che facciamo è umile. Tante volte Don Giovanni ci ha richiamato l'umiltà dell'intelligenza. Anch'io condivido cose. Umili, talvolta dobbiamo dire, anche cercando di rendere ragione della speranza che è in noi, della fede che è in noi, vedete, la ragione è dentro, anche facendo questo non riesco a spiegarti. Ti posso dare quella luce lì in cui anch'io credo, c'è risurrezione, ma non riesco a spiegarti perché mai il tuo bambino è nato con quell'handicap che gli ha rovinato tutta la vita. Non ce la faccio a spiegartelo. Non me l'ha detto Gesù, però mi ha detto che anche per lui ci sarà una nuova vita e che anche nell'aldiquà certi gesti d'amore rendono bella anche quell'esperienza nata così male. Ecco, tante volte anche noi credenti dobbiamo arrenderci e dire non te lo so spiegare, non lo so, non me l'ha detto Gesù, però so che vivendo come lui c'è un po' di luce e alla fine c'è la luce piena. Questo te lo posso dire, però appunto questo è qualcosa che mi viene donato. Non sono io da solo che con la mia ragione mi arrampico per arrivare sull'Everest e vedere tutto chiaro. Non vedi tutto chiaro. Mai. Sono io che lasciandomi illuminare, lasciandomi attrarre dalla luce, passo dopo passo, con tutto me stesso, il mio cuore, il mio cervello, le mie mani, alla fine capisco quel senso per cui vale la pena vivere.